Ben trovati amici, l'appuntamento con l'informazione sul canale 89 di Tele Iblea. 8 dicembre, festa dell'Immacolata, come sappiamo ormai tutti, inizia il periodo natalizio. Dall'8 dicembre fino al 6 gennaio, magari fino all'8 se c'è la domenica dopo, come mi pare che in questa occasione c'è una domenica un pochino più in là. Quindi quello è il periodo natalizio, si accendono le luci nelle città, abbiamo iniziato un po' prima perché le amministrazioni non si vogliono fare prendere in castagna, perché nel passato, e noi ce lo ricordiamo ampiamente, pur avendo le amministrazioni anche alla capacità economica senza grossi problemi, arrivavano sempre l'ultimo giorno ad accendere le lucette, perché il bando, compagnia bella, e invece molte amministrazioni ci hanno pensato prima. E questa fine settimana, che appena trascorso, aveva anche delle caratteristiche tutte sue, per esempio un lungo weekend che ha portato, pensate, 7 milioni di italiani ad andare in giro. Purtroppo dalle nostre facce è stato un po' di freddo, non tempo brutto, ma un po' di freddo, qualche goccia d'acqua, ma questo non ha scoraggiato alcune attività. Ne parleremo ampiamente nel nostro telegiornale, c'è ciocomodica soprattutto, ma vogliamo andare a Ragusa, proprio perché Ragusa è una città che viene da molte parti accusata di essere una città triste, cioè di non riuscire a infondere una, come posso dire, questa aria di festa, di allegria, di compagnia bella, non ci riusciamo. E quindi l'impegno di alcune organizzazioni, in questo caso Slow Food, ma anche dei commercianti di Via Roma, ma anche quelli di Il Comune che ha dato un contributo, si è ripetuta la stessa iniziativa dello scorso anno che alla fine aveva dato un po' di vita alla Via Roma. Sono state preparate una ventina di casette che vedete in legno, tipo mercatine di Natale, ma non con le solite luci di Natale, ma con prodotti enogastronomici che, come ha detto Lorenzo lauria di Slow Food, sono una caratteristica con il marchio, o meglio ci sono molti prodotti a marchio Slow Food. Poi naturalmente c'è di tutto, perché quando si tratta di cibo noi italiani siamo senza dubbio i migliori. E c'è una lunga discussione che faremo anche durante lo spazio di Ciocco Modica, proprio sul concetto della dieta mediterranea, della carne sintetica, per un convegno che si è svolto a Modica. Allora, questo era per aprire, perché voglio dare atto a Lorenzo Lauria e in qualche modo anche al Comune, perché il Comune cosa fa? Si toglie, praticamente si pulisce la coscienza, no, si toglie un peso alla coscienza e dice, vabbè, io c'ho dato un contributo a quello, un contributo a quell'altro, un contributo a quell'altro. Se la sbrigano loro, mai che il Comune dice, ora penso io a qualche cosa, assolutamente. Poi non c'è un assessore al turismo, non c'è un assessore alla cultura, siccome una città così importante, tutto il sindaco che poi ha i consulenti, ma alla fine non mi pare di grandi risultati. Allora, per tutto il periodo, nei fine settimana ci saranno le casette di Slow Food in Via Roma. Almeno qualcosa si fa. Ci sono altre iniziative in altre zone, vi parla annunziata, ma ne parleremo nei prossimi giorni. Invece andiamo a parlare di che cosa? Parliamo di infrastrutture e, come si dice, attorno a copupo, diceva il nostro grande amico Mimì Arezzo. Attorno a copupo. Attorno a copupo perché effettivamente noi non riusciamo a discutere di niente se non parliamo di infrastrutture. Allora, una notizia simpatica, ma poi la dobbiamo girare in altre cose. Ci arriva ad Agrigento. Gli amici di Agrigento l'hanno trattata ampiamente. In pratica, ad Agrigento, che c'è la linea diretta, hanno fatto un treno che in due ore e qualche cosa, con 15-16 euro, non mi ricordo bene, porta da Agrigento all'aeroporto Falcone e Borsellino. Sarà un tentativo di scoraggiare le amministrazioni locali per fare l'aeroporto. Dice, ma qua, avete un treno. Allora, se il treno fosse come è giusto che sia, fosse per esempio un treno veloce che ci porta da Agrigento all'aeroporto Falcone e Borsellino, sono 200 km, in meno di un'ora sarebbe da stupidi tentare di avere un aeroporto. Perché ci abbiamo un treno? Impieghi meno tempo perché ti metti sul treno, arrivi all'aeroporto, manco hai problemi di posteggiare e sei bello all'aeroporto. Ma questo treno impiega due ore e passa, con tutto che si tratta di un treno comodo e tutto quello che volete voi, ci vogliono sempre due ore e passa. Dice, ma perché con la macchina quando impieghi? Impieghi forse anche di più. Ma il problema è che allora, per queste due ore e mezza, è giusto che si pensi all'aeroporto. Io sono favorevolissimo al fatto che ci sia un aeroporto anche ad Agrigento, zona, mi pare, di, vabbè, i posti esatti non li sono, abbiamo intervistato il sindaco qualche tempo fa. Io sono, diciamo, favorevole, dice, ma tu così, penso di capirne un po' e questa cosa dell'aeroporto mi piace. Intanto hanno fatto il treno, due ore e passa, 15 minuti. Ma se noi avessimo un pochino più di soldi, non sarebbe giusto andare a chiudere tutte queste storie delle infrastrutture, perché ora torneremo a venerdì con l'inaugurazione dell'autostrada di quei 12 chilometri. Il problema ritorna ad essere questo benedetto ponte. Io sono di quelli che sono contro il ponte. Ieri anche un importante personaggio della televisione ha detto ma il traghetto è così romantico, 20 minuti di traghettata è così romantico, dobbiamo creare questo colosso, questo mostro, che tra l'altro ha tutta una serie di difficoltà. Vi ho detto il problema dei pendolari, che non è vero che accorceranno, ma allungheranno molto di più i tempi. E poi ci sono anche dei problemi che vengono tirati fuori dall'università di Messira, che dice che non c'è più la crescita demografica come una volta, quindi stiamo diventando 10.000 in più, 50.000 in più, siamo sempre ciupicca. E non c'è neanche, non si vede, questo sviluppo del traffico. Non è una gran cosa. Perché poi alla fine se noi facciamo il ponte, ma allora magari il cargo che ne serve? C'è tutta una visione della questione che naturalmente dice no al ponte. Quattro giorni fa c'è stata una manifestazione a Messira, noi l'abbiamo ripresa da un giornale nazionale, quindi ve la riproponiamo come hanno detto loro e poi ne possiamo parlare. Vediamo.